11 arresti, 254 persone segnalate per uso personale di sostanze stupefacenti, tra cui diversi minorenni. Una doppia operazione dei carabinieri di Arezzo, un ulteriore giro di vite allo spaccio nella città di Arezzo. Due le aree dell'Arettino sotto la lente dei militari, il cosiddetto triangolo dello spaccio, Parco del Pionta, Saione, Campo di Marte e l'area nord della provincia, dalla Chiasa al Casentino per finire nel Valdarno. In entrambe le zone, due bande, si erano spartite le piazze dello spaccio, i nordafricani in centro città, gli albanesi in periferia. L'operazione University ha riguardato la zona del campus universitario ed ha preso il via dalla morte per overdose di un 21enne. Sono arrivate a seguito di un'indagine durata circa nove mesi, delle ordinanze, e quindi sono stati arrestati nove soggetti di nazionalità extracomunitaria, tunisini, marocchini e un cittadino del Togo, che era il rifornitore che si trovava a Castelvolturno, nel Casertano. Questi erano volte noti per la città di Arezzo, molti erano già stati arrestati in precedenti operazioni, sempre del nucleo operativo e radiomobile della compagna di Arezzo, e sono sempre stati tenuti sotto controllo proprio per stroncare ogni inizio di ricidiva. La zona di spaccio, quindi il parco Pionta vicino al polo universitario, e l'orario di spaccio, quindi a cavallo dell'orario di pranzo, oppure nel primo pomeriggio, poteva coincidere anche con l'uscita di studenti da scuola o comunque per i frequentatori dell'università stessa. Però per il momento sono stati individuati tutti i nove soggetti extracomunitari che controllavano il parco Pionta e che poi si allungavano anche fino a Campo di Marte. Economicamente sono stati sequestrati più di 10.000 euro, come dosi durante le operazioni sono state sequestrate più di 200 dosi, già tagliate e quindi già pronte per lo spaccio al dettaglio, per un totale di oltre 150 grammi sequestrati. La seconda operazione denominata invece Eagle, Aquila, ha portato a scoprire a Ponte alla Chiasa una vera e propria raffineria della droga all'interno di un'abitazione dove vivevano un operaio 27enne, una casalinga di 22 anni, entrambi albanesi, che di professione facevano ben altro, ovvero tagliavano e confezionavano lo stupefacente. Una macchina da guerra ben rodata dunque che faceva girare in città un fiume di droga e soldi. Avevano monopolizzato quell'area e l'area che guarda al Valdarno. Nell'operazione sono stati rinvenuti e posti sotto sequestro 100 grammi di cocaina, 50 grammi di hashish ed è stato sequestrato anche, provento dell'attività di spaccio, 7.000 euro in contanti. Va rimarcato il fatto che la sostanza stupefacente, la cocaina, è pura al 90%, quindi tagliata sarebbe aumentata in maniera considerevole di volume e quindi avrebbe incrementato ancora di più l'attività di spaccio. Si può parlare di una raffineria casalinga e l'operazione quindi ha consentito di stroncare questa raffineria, di incrementare il livello di sicurezza nell'area in questione. Le indagini proseguono e adesso sono tese soprattutto a verificare la fonte di approvvigionamento di questi due soggetti.